io adesso non conosco il codice deontologico dei notai ma immagino che ovviamente mi sono documentato, c'è una legge notarile che dice che il notaio deve accertare la volontà delle persone contraenti, le vere intenzioni, la legge è una norma interna? no, no, è una legge, risale a 30-35, 1930-35 perché qui io leggo, intimavano addirittura minacciosamente agli stessi, o la filmi così, come compilato, oppure non compri cosa vuol dire intimavano minacciosamente? adesso è minacciosamente, o filmi o non filmi, se non filmi, punto e basso è chiuso, non compri, chiuso stante l'esistenza di una partita non è che diceva, tanto è vero non compri, non ti faccio in oggetto, punto e basso e adesso la situazione qual è? è stata comprata la casa, adesso mia moglie l'ha comprata però le conseguenze di tutta questa situazione quali sono? la mancanza di trasparenza che abbiamo invocato nella causa che è stata la respinta la mancanza di trasparenza che io personalmente e tante altre persone hanno chiesto ai notaie di avere per quanto riguarda sia i documenti catastrali, sia le certificazioni, i regolamenti di condominio perché le tabelle millesimali eccetera che non sono state mai date praticamente risulta che adesso ci troviamo in una situazione che è catastrofica perché il regolamento di condominio depositato dalla VIS alcuni giorni prima della vendita praticamente è un regolamento farraginoso che non funziona le tabelle millesimali non sono chiare perché non è spiegato il perché una tabella dice che io ho 30 millesimi e questi 30 millesimi con quale procedimento ci si aggiunge praticamente negli accordi era previsto che si doveva fare la impermeabilizzazione dei terrazzi l'impermeabilizzazione è stata fatta distruggendo i terrazzi perché l'impermeabilizzazione è stata posta al di sopra della pavimentazione dei terrazzi per cui la guana è impermeabilizzante, non è calpestabile per cui praticamente non sono più praticabili c'è il fatto che praticamente l'impianto di riscaldamento sembra che non sia conforme alle norme di legge e così poi praticamente c'è i solai di copertura delle autorimesse che mostrano paesi infiltrazioni e non si sa la durabilità di questi solai se sono resistenti o non resistenti eccetera ci sono tutte queste cose che praticamente non sono state verificate da chi? da delle persone che erano nostri mandatari che in altre parole questo compito potevano fare diciamo quelli che si sono arrogati cioè voi alla fine chi è che contestate le organizzioni sindacali? certo mi sembra che gli notai alla fine anche se in qualche modo sono stati quasi costretti diciamo a fare la fine in questi termini la procedura prevedeva ovviamente che dovessero gli inquilini sottoscrivere questa procura a un non meglio attualmente identificato procuratore in assenza di quella procura da conferire al procuratore della tintoretto si decadeva dall'esercizio del diritto di opzione quello prevede la procedura ci fermiamo per un attimo pubblicità e poi ritorniamo per tirare la somma in qualche modo bene ritorniamo ancora in studio a questo punto quello che vorrei chiedere a questo punto io vorrei chiedere più che altro no più all'avvocato Andrea Baudino ma in tutta la vicenda insomma tutto quello che stava raccontato appunto dall'ingegner Rassile dal signor Campolo insomma tra l'altro io ho dato anche il numero però non abbiamo ricevuto telefonata effettivamente dai inquilini del tintoretto via del tintoretto appunto via del tintoretto chiedo scusa 88 che appunto ricordo il numero 0645481854 però adesso c'è poco tempo speriamo che riusciamo almeno se arriva almeno una telefonata forza riusciamo a farla comunque quello che vorrei dire in tutta la vicenda avvocato cioè cosa c'è di lecito illecito illegale legittimo illegittimo oppure eventualmente se soltanto magari diciamo che le come dire le mancanze in qualche modo sono soltanto a livello diciamo etico poi alla fine cosa c'è diciamo di come dire sono mancanze etiche oppure sono proprio violazioni in qualche modo ovviamente per quello che compete poi il mio ruolo noi abbiamo cercato diciamo le norme codificate della legge certo noi abbiamo cercato di sottoporre all'attenzione del giudice la vicenda proprio in tutto il suo evolversi e ovviamente abbiamo puntato l'attenzione sull'esistenza di questo conflitto di interessi per i motivi che disaurientemente credo abbiamo richiamato in precedenza puntando quindi all'annullamento di questi contratti cioè l'esistenza di un conflitto di interessi è già una violazione che può imporre una sanzione civilistica in questo caso che riguarda appunto l'annullamento dei contratti e comunque in seconda battuta o quanto anche si voglia menzionare in questo modo un inattempimento dei sindacati a quello che era il loro a quello che era l'oggetto del loro contratto di mandato quello di far acquisire gli appartamenti al minor costo di acquisto possibile poi è ovvio che non abbiamo avuto e questo è un peccato è forse un'occasione mancata e di questo mi dispiace che non si sia potuto approfondire da parte dell'autorità giudiziaria la vicenda nel merito ma ci si sia soltanto fermati all'aspetto formale che io non condivido quello della mancanza dell'esistenza di un diritto di opzione però diciamo che l'Italia è effettivamente il paese dei conflitti di interesse per la fine non è il primo e non sarà l'ultimo caso ci sono dei conflitti di interesse macroscopici che addirittura sono regolati a leggi di Stato in maniera piuttosto severa però spesso sono stati ignorati adesso non entriamo nel merito se no dobbiamo fare un'altra dismissione assolutamente d'altra parte le trattative di dismissione di complessi immobiliari a livello privato sono ancora una materia vergine in un certo senso sono regolamentate a livello pubblicistico quindi forse sarebbe stato anche un'apripista da parte della giurisprudenza per poter un attimo capire le eventuali o presunti irregolarità perciò diciamo alla fine un'occasione mancata sicuramente eticamente sicuramente la vicenda è piuttosto qui lascio la palla agli inquilini che vedo anzi attuali che vedo comprensibilmente amareggiati però diciamo che legalmente alla fine la procedura è stata più o meno lineare guardi io ho ipotizzato una serie di violazioni e secondo me così lineare da un punto di vista legale non è stato ovviamente ripeto è un'occasione mancata attraverso una sentenza per capire veramente poi nel merito che cosa ci sia stato di regolare o meno il giudice si è affermato ad un aspetto formale però mi sembra che sia una testimonianza un'altra testimonianza appunto di un altro inquilino appunto via del Tintoretto 88 che fa parte del gruppo che in qualche modo ha citato poi in tribunale davanti al giudice la visa SRL la Tintoretto eccetera eccetera si parli del signor Giuseppe Mucci che dovrebbe essere in linea con noi pronto Buongiorno a tutti 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 No io non faccio parte di quel gruppo che ha citato diciamo entrato in causa No Ah per favore chiedo scusa per l'inesattezza Eh? chiedo scusa per l'inesattezza insomma No vabbè non è un problema però sono molto naveggiato perché io non ho comprato l'appartamento per i miei motivi personali tra uno che posso citare è quello che non volevo dare nessun euro che non fosse per il mio appartamento questo è uno dei tanti motivi e comunque voglio dire questo che le organizzazioni sindacali hanno accompagnato perfettamente anche coloro che non hanno acquistato per fare il contratto di affitto tanto è vero che io non l'ho filmato Neanche il contratto di affitto? No Lei ha cambiato casa poi a quel punto? No no abito ancora qui abito ancora qui ed ho un contratto in essere vecchio che mi scadono nel 2009 non ho filmato perché il contratto di locazione che mi sono fatto mandare sempre tramite l'avvocato perché io prima di filmare qualcosa voglio sempre leggere è un contratto vessatorio in tutte le sue parti in che senso vessatorio? nel senso che è unilaterale ossia ce lo può spiegare magari abbiamo poco tempo però io lo spiego subito a parte la durata del contratto si parlava 5 più 2 parlano di 4 anni probabilmente di rinnovo per altri 4 a parte che il canone è aumentato del 50% spiegabilmente questo dicono per un accordo tra le organizzazioni sindacali e la Tintore ma se la cosa questo cioè la sua diciamo il fatto che lei ancora risiede lì fa capo a un contratto vecchio come è possibile che il canone io adesso pago quello del contratto in essere occhio cioè è una volosa sottosfera il nuovo contratto d'affitto è quello che mi propone con il nuovo contratto di affitto e nel nuovo contratto di affitto c'è scritto che tutte le spese straordinarie ordinarie sono a carico del locatore quindi a carico mio si parla che il